Musica 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 e fanno la gamba dritta, movimenti stretti, pieghe e pieghe 10 volte. Posterali a terra, posterali in aria, posterali in acqua, la cosa più naturale per noi è di aiutarli ad attivare l'equilibrio del nostro colore che ristavolisce l'equilibrio che abbiamo appeso se abbiamo avuto diversi traumi e anche rimettere in linea il nostro corpo, l'equilibrio che pesa, limpare il muscolo. Grazie a tutti!